...e anche ricordare quello che hanno evitato sotto i cavalcavia. Dopodiché hanno fatto questa guida che si chiama Kiwi e di nuovo io penso che se uno può fare una guida turistica, di un posto, antropologica, di un posto come Rosarno, qualsiasi luogo avrebbe diritto a una guida. È molto bella la guida, adesso faranno una seconda edizione perché racconta le storie della città, quindi le botteghe, chi ci ha vissuto. C'è un aspetto però molto velocemente che mi interessa sottolineare. La biblioteca era stata chiusa, questi ragazzi attraverso il bando Culturability e attraverso una fatica enorme stanno cercando di tenere aperto un luogo che dovrebbe essere finanziato dal pubblico. Lì dentro si va a giocare gratuitamente, si va a leggere gratuitamente esattamente come accade in una delle biblioteche del nord. E sono loro che fanno sì che questo possa accadere, sono loro che fanno sì che ci sia internet gratuito per gli immigranti che non ce l'hanno a casa o non ce l'hanno sotto le tende. Molte delle cose che magari uno racconta, per chi vive al nord, vive in altri posti, sembrano delle cose normali, ovvie, scontate. Qui qualsiasi cosa è uno sforzo e loro lo fanno. E secondo me è quello che hai detto tu Erika adesso, dicendo noi vogliamo essere un posto normale, non vogliamo essere segnati, stigmatizzati da dove siamo. E lei abita a Roma e continua ad andare su e giù, ma alcuni ragazzi, altri che sono lì, lavoravano in giro per l'Italia, con lavori anche interessanti, e sono ritornati e sono ritornati e vivono lì e portano avanti. Quindi io penso che dal punto di vista sociale, ideale, politico di chi ha messo in piedi questa impresa abbia un piccolo valore in più rispetto ad altre, perché è più complicato. Erika grazie. Grazie, grazie a voi, grazie Antonella. Grazie. Ritorniamo al nord con Mara Loro, che è la project manager della Fondazione Angar di Torino del Piemonte, con una esperienza che ci racconterà come in qualche modo una fondazione pubblica, quindi dipendente da enti pubblici, può aiutare, facilitare, accompagnare luoghi, percorsi, processi, competenze. Buongiorno a tutte e a tutti. Provo un attimo a sfumare questa presentazione partendo da me e presentandomi, perché penso che sia importante anche per tracciare delle linee di narrazione che sono state portate qui oggi, in cui sono stata molto contenta di aver avuto il tempo di ascoltare tutti gli interventi, perché sono rimasta molto colpita e meravigliata da queste forze soggettive e collettive di trasformazione e anche sono contenta perché quello che mi porto a casa da questa giornata è proprio la rilevanza della visione artistica e culturale in questi processi di trasformazione e quanto questa visione, quando si connette con dei processi di tipo istituzionale, effettivamente crea delle condizioni veramente di cambiamento che può essere anche strategico se accompagnato dalle istituzioni. Quindi, complimenti a chi ha costruito questa architettura di contenuti e parto con una piccola presentazione mia perché credo che sia appunto rappresentativa anche di una complessità. No, no, faccio tutto, perché non preferisco parlare e... No, no, grazie. Dunque, io ho una duplice formazione che è artistica e economica, quindi dall'età di 15 anni mi sono formata, quindi dagli anni 90 fino al 2012 come artista e parallelamente come economista. Grazie a uno spazio artistico che è nato nel 2001 in Piemonte, che è la Fondazione Pistoletto, ho capito che questi due mondi erano fortemente in relazione e ho iniziato il mio percorso di ricerca, che è quello sulla costruzione di un metodo per l'indagine e lo sviluppo dell'identità di un luogo in relazione al contesto sociale, culturale ed economico. E questo in questi anni, dal 1990 fino ad oggi, è il mio lavoro, che l'ho fatto appunto come artista, come ricercatrice e adesso come direttrice di Angar Piemonte. Dico direttrice e non project manager in una maniera consapevole, perché il ruolo formale è quello di project manager, ma credo che nella parola project manager ci sia un vuoto di contenuto per come è assorbita e vissuta normalmente da noi e questo ruolo di project manager lo sto assumendo, prendendomi la responsabilità di proporre una direzione e quindi preferisco appunto nominarmi come direttrice perché mi sto prendendo la responsabilità di una direzione culturalmente. Quindi Angar che cos'è? È un progetto che è stato voluto dall'assessorato alla cultura della regione Piemonte nel 2014 per sostenere lo sviluppo del comparto culturale della regione Piemonte, culturale e artistico della regione Piemonte. Questo progetto dal 2014 al 2022 è stato interpretato con fondamentalmente un team di esperti nelle discipline di project management, quindi dalla comunicazione strategica, all'innovazione culturale, digital transform, insomma tutte quelle che sono le discipline del project management erano interpretate dalle persone che erano a supporto delle organizzazioni per un cambiamento, per attivare un processo e per sostenerle diciamo in una costruzione di una traiettoria di sviluppo. Nel 2022 questo progetto, questo approccio è cambiato, io sono stata assunta per ripensare un po' diciamo questo approccio e immaginare, diciamo studiare, sperimentare una nuova modalità che diciamo rientra dentro un'organizzazione che ha la forma dell'Agenzia per le trasformazioni culturali, quindi mi è stato detto proviamo ad andare in quella direzione e quindi appunto da aprile del 2022 ad oggi stiamo studiando, interpretando appunto questo modello di Agenzia per le trasformazioni culturali e per fare questo dialoghiamo con i territori della regione Piemonte, tutti, con le istituzioni, con i soggetti intermedi, quindi diciamo fondamentalmente il nostro lavoro è un lavoro di relazione, è un pretesto di relazione e che però diciamo ha coinvolto in questo team delle altre competenze che sono quelle degli artisti e dei curatori, quindi gli artisti e i curatori fanno parte del team esattamente come i project manager e quindi gli artisti intervengono nei vari processi che sviluppiamo diciamo attraverso le nostre azioni. Vi dico prima le azioni e poi dopo farò una serie di considerazioni appoggiandomi alle cose che sono state dette oggi a partire da Antonella. Con Francesco ci frequentiamo troppo, quindi non parto da lui perché il dialogo è continuo. Fondamentalmente ci occupiamo di cosa? Di accompagnare i processi di trasformazione dei luoghi, quindi attiviamo una call, la prima l'abbiamo attivata con questo nuovo approccio, l'abbiamo attivata all'inizio di quest'anno e abbiamo selezionato otto luoghi diversi perché sono luoghi di cultura e sono luoghi sociali, quindi all'interno di questi luoghi ci sono anche case di comunità, anche se non si sa bene ancora che cosa sono le case di comunità, ci sono delle scuole, però poi ci sono anche degli hub culturali e un'estazione ferroviaria, insomma luoghi che si stanno ripensando. Abbiamo parallelamente un'altra linea di lavoro e quindi accompagniamo e accompagneremo questi luoghi, ma soprattutto le reti che lavorano per la trasformazione di questi luoghi per 18 mesi attraverso questo sistema di competenze. Poi lavoriamo su un'altra linea che è quella della ricerca e questo lo facciamo sia con gli artisti che con gli esperti in project management. Con gli artisti cerchiamo di lavorare su quelle esperienze artistiche che sono in grado di far maturare una riflessione su determinati temi e sfide del contemporaneo, sono riflessioni e anche di lavorare sulla cultura del cambiamento, perché se c'è una consapevolezza che abbiamo acquisito dal 2014 al 2022, che si può mettere al servizio del cambiamento le migliori competenze di tipo manageriali, ma se non si è lavorato sulla cultura del cambiamento non si va da nessuna parte. quindi lavoriamo appunto con gli artisti su questo, poi racconterò come lavoriamo con i curatori e poi stiamo lavorando al ripensamento di uno strumento di rendicontazione sociale che tenga insieme una valutazione degli impatti delle organizzazioni di tipo qualitativo e quantitativo. E abbiamo finito il percorso, lo presenteremo, la fine del percorso presenteremo un Vademecum il 22 di giugno a Torino, quindi vi invito insomma e abbiamo chiamato Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Confcommercio a dirci cosa ne pensano e come si può ragionare insieme rispetto, prima di tutto a un sistema di valutazione condiviso e poi ad un approccio quali quantitativo che renda possibile non solo una valutazione di impatto, ma anche una valutazione di senso delle azioni culturali che vengono messe a punto dalle organizzazioni. Quindi questa è l'area più della ricerca e poi abbiamo sentito l'esigenza di aprire una nuova traiettoria che è quella dello scenario culturale, nel senso che noi ci dobbiamo occupare di accompagnare i processi di trasformazione, però il punto che ci mancava era sì, ma verso quale orizzonte della trasformazione? Qual è lo scenario di riferimento di questa trasformazione? Che tipo di cultura? Verso quale tipo di cultura contemporanea noi dobbiamo andare a operare? E quindi lì abbiamo chiesto a otto curatrici di aiutarci ad approfondire otto tematiche che non vogliono essere le tematiche, ma alcune tematiche che in questo momento secondo noi sono importanti per ragionare sul contemporaneo e queste tematiche approfondiscono il tema del decoloniale, della cura, del genere, della partecipazione, dell'accessibilità, del digitale e dell'ecologia e lo fanno queste curatrici producendo dei contenuti e questi contenuti diventano delle buone pratiche che poi noi abbiamo voluto non tanto pubblicare sui nostri canali, ma cercare degli interlocutori rilevanti sul territorio per connetterci a degli sviluppi strategici. Quindi una traiettoria che racconta queste buone pratiche è attualmente su Italia che cambia e l'altra la stiamo costruendo. e quindi diciamo quella di una riflessione di più di tipo teorico invece sarà ospitata da Gicalte, quindi siamo molto contenti e con la fondazione invece per la scuola e il patrimonio da settembre faremo dei webinar proprio per ragionare con i direttori artisti culturali dei musei e capire come questi temi vengono da loro interpretati e tradotti in programmazione culturale ed artistica proprio perché non è che ci interessa la risposta, ci interessa ragionare, dibattere con tutte le divergenze che ci sono su questi temi perché ognuno possa effettivamente trovare la propria risposta, non interessa mai la risposta ma la pratica diciamo della domanda. Ecco, questa è una presentazione molto ampia di Angar e volevo un po' di tempo, qualche minuto, ok vado su velocissima e attraversare questa mattinata attraverso le vostre parole, ecco il contenuto anche ponendo delle criticità, partire dal contenuto ci occupiamo di cultura, possiamo però dire che il contenuto non è importante perché seppur facciamo cultura in questo momento il contenuto non ha uno spazio nella progettazione culturale e questo ce lo dobbiamo dire, bisogna legittimare lo spazio della creazione di contenuto che vuol dire integrare all'interno dei processi gli artisti e i curatori che nessuno sa chi sono, nessuno sa chi sono i curatori, nessuno sa che è una professione costruire dei contenuti e questo bisogna dirlo perché integrare la parte dei contenuti apre un mondo di possibilità perché apre la possibilità non più di narrare il linguaggio ma il tema, la sfida e quindi apre alla possibilità a costruire delle comunità di interesse dove all'interno ci possono essere imprenditori, società civile, artisti e sono comunità che se sono di interesse sono dinamiche e non c'è bisogno di avere una comunità di interesse che coincida con una comunità territoriale, se abbiamo imparato una cosa dalla pandemia è la potenzialità del digitale in questi termini, quindi si possono costruire alleanze strategiche attraverso anche questi spazi, quindi il contenuto, lo spazio del contenuto non è legittimato e va preso un tempo per costruire il contenuto e io lo vivo tutti i giorni e lo difendo in tutti i modi perché va difeso internamente e esternamente perché è vissuto da tutti, anche dal territorio, dall'istituzione come una perdita di tempo, questo dà un grosso vuoto, poi quando si fanno i bandi e le risposte ai bandi con i progetti, ci sono le valutazioni dei progetti, si dice i progetti sono scadenti, perché i progetti sono scadenti? Perché non rispondono fortemente? Non sono in grado di leggere il presente, perché non abbiamo creato lo spazio per farlo, scusate, mi accaloro, ma perché tutti i giorni io la vivo questa difficoltà con tutti. come? 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 No, 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 è che un sistema che bisognerebbe avere la forza e il coraggio, non parlo di nessuno in particolare, di dire non aderisco, ma questa è una cosa, mette in campo altro, ecco, non volevo assolutamente. No, però c'era una cosa che aveva detto, è proprio dal problema che bisogna partire, cosa non funziona, cosa che l'ha detto Eleonora, cosa non funziona, tutte le cose più belle che io ho visto fare è proprio dal condividere questa domanda insieme, mettere a sistema le competenze per dire cosa non funziona, ragioniamo insieme per farlo funzionare e l'approccio sartoriale per poterlo adattare continuamente, perché è finita l'organizzazione e l'istituzione perenne. Dobbiamo studiare dei sistemi di organizzazione e dei modelli che permettano una dinamicità anche della redistribuzione del lavoro all'interno delle organizzazioni per essere porose e capace di rispondere in una maniera pertinente alle stanze di contesto. Non ce la faccio, diciamo, dire tutto quello che vorrei, però insomma vorrevo concludere con la provocazione di Eleonora sulla ricetta, direi che la ricetta secondo me è culturale, non è una questione neanche economica in questo momento, è una questione proprio di approccio e culturale, quindi per me la ricetta è il riconoscimento reciproco, perché questo manca, oggi qui c'era un sistema di competenze, quindi è importante secondo me abbandonarsi e provare a lavorare attraverso il riconoscimento degli altri per la costruzione di traiettorie condivise e poi l'urgenza di costruire degli spazi di vuoto o di spazi del possibile, perché in alcuni contesti la grande povertà che io rilevo e forse in tutti è la povertà delle relazioni, facciamo in base a quello che conosciamo e mancano pretesti di incontro, è solo l'incontro che poi può generare spazi di senso e di relazione. Quindi grazie a tutti. Grazie mille, è quello che cerchiamo di fare qui alla Biennale, mettendo in connessione idee, esperienze e progettualità. Ora iniziamo alcuni interventi, alcuni altri amici che ci sono venuti a trovare, abbiamo programmato un intervento, chiediamo di essere brevi perché siamo andati lunghissimi, quindi partiamo da lontano, do ai nostri amici che vengono da lontano da San Paolo dove stanno facendo una ricerca e li abbiamo invitati perché in realtà i sistemi culturali come le città sono dei sistemi complessi e avete visto la nostra locandina, la presentazione del diagramma del caos e c'è chi invece questo sistema della fisica e quindi dei sistemi del caos lo applica allo studio delle città e quindi anche alla cultura è la cosa. Quindi loro, il gruppo è Zero Zone, rimaniamo anche qua insomma tranquillo, facciamo una senza andare qua, facciamo 5 minuti, col microfono no perché non ti sentono fuori? Non ti sentono dalla ripresa? Ok, allora fai partire il PDF se funziona, va bene quello. Ok, grazie. Sono Augusto come ha spiegato Manuela, faccio parte di questo concept ideativo che è Zero Zone e questa ricerca lo sto facendo con Carla Sartorelli e si avvale del contributo del professor Sartorelli dell'Università di San Paolo, fisica e matematica e di San Sartorelli, Carlos Albino che ci ha aiutato sulla parte storiografica di questa ricerca qua. Allora questa ricerca qua è un po' una favola al contrario perché invece di essere c'era una volta o c'è stato o abbiamo fatto, ve la devo raccontare come faremo e andremo a fare perché è partita adesso, doveva partire nel 2020, poi il caos ha deciso che era meglio che si partiva nel 2023. Quindi vado con la freccina. Ok, va bene, lasciamo questa cosa qua. Il caos per chi dal punto di vista matematico, sistemi dinamici che esibiscono una sensibilità esponenziale rispetto alle condizioni iniziali. Questo viene più comunemente raffigurato dal battito di farfalla che accade a San Paolo, che genera un tifone, un turbino a Tokyo. Quindi un elemento piccolissimo rispetto alle condizioni iniziali che poi va a creare un'enorme divergenza rispetto alle condizioni iniziali. Ci sono alcune caratteristiche del caos che sono importanti, che vi voglio dire, che sono caratterizzate da questa cosa che degli attrattori, cioè elementi che attraggono la transizione e, secondo un Reinaldo Daniel Pinto, che è un altro ricercatore con cui abbiamo avuto modo di rapportarsi, ci sarebbero anche questi antiattrattori. Nella città di San Paolo, questo è uno dei diagrammi del caos, ovvero si è misurato tramite uno strumento che il professor Sartorelli ha creato per l'Università di Fisica di San Paolo, il cadere delle gocce d'acqua e, secondo il tipo di disturbo, di transizione verso il caos, si creano questi diagrammi. Questo è uno che mi ha colpito particolarmente la mia fantasia e da lì che poi è partita un po' la ricerca perché evocava tante cose. Questo è un altro chiamato AL dal professor Sartorelli. Ora, noi siamo partiti dalla città di San Paolo, abbiamo provato a vedere se esistono delle connessioni, come diceva Manuela, tra la teoria del caos e la pianificazione, nell'architettura delle città o semplicemente come esse si evolvono, perché potrebbe essere utile saperlo. Abbiamo iniziato a studiare due casi, che uno è il sistema Etna e l'altro è la città di Osasco, che si colloca così. È una della città della Grande San Paolo, che viene denominata Grande San Paolo, che ha 24 milioni di abitanti. Osasco è un comune, un municipio che si è emancipato da San Paolo, facendo un processo al contrario rispetto alla megalopoli, con un referendum popolare, see and now, del 55. Questa è la collocazione di Osasco e quello che stiamo cercando di capire lì è che Osasco sembrerebbe essersi formata lungo le linee principali del traffico e lungo queste aver creato dei microcentri in forma caotica, che adesso poi vi faccio capire quale sarebbe la connessione che abbiamo trovato. Ovvero, va bene, queste sono le linee di traffico, sono le mappe tematiche che stiamo sviluppando. L'elemento attrattore sono le linee di transito, le linee viabilistiche eccetera eccetera. Questo è l'elemento attrattore, come nella teoria del caos. L'elemento antiattrattore è la disponibilità delle persone a potersi spostare, quindi è un fattore economico, le persone povere, perché Osasco è una città industriale, ex industriale eccetera eccetera, e aveva una connotazione proprio di povertà e veniva anche identificata dal resto della città come una zona povera e anche periferica, quindi l'impossibilità di potersi spostare è diventato l'elemento antiattrattore, cioè attrattore sono le linee di traffico, però perché i centri si sono concentrati in alcuni punti creando questa città multicesica? Perché le persone non avevano possibilità di spostarsi. Quindi in questo sembrerebbe la connessione con il caos, con la teoria del caos. Il macrosistema Etna, c'è Catania ovviamente, e cosa succede? Il buco al centro sarebbe il vulcano e cosa è successo? Il vulcano è l'elemento antiattrattivo anche qui. E cos'è l'elemento attrattivo? La lava che nel corso del tempo è scesa e ha fertilizzato i terreni e quindi ha creato questa città, il sistema, perché poi non c'è solo Catania, ma tutto il sistema dei piccoli centri che avevo evidenziato qui, proprio funge come il caos, cioè ha questo elemento antiattrattore che è il vulcano e però la fertilizzazione dei terreni dovuta alla lava ha creato poi l'insistenza ad avvicinarsi alle falde di questo vulcano e quindi ha creato questo sistema di microcentri urbani intorno al vulcano. Questo qui diciamo è il momento, al momento siamo a questo livello qua e speriamo di trovare più connessioni, di vedere se esistono delle forme con cui si possa utilizzare questa connessione, come in neurologia, perché il professor Daniel Pinto sta sviluppando degli sistemi per connettere, per creare dei chip neuronali che ci permetteranno a persone che magari non hanno un braccio di potersi, e usa la teoria del caos. Lo stesso in urbanistica potrebbe essere utile, per esempio, un esempio che abbiamo ipotizzato, è questo. Se c'è una megalopoli, c'è tantissimo sviluppo di traffico, immaginiamoci in una città e a dover spostarsi, abbiamo un sistema che non è caotico e quindi è gestito da un applicativo e ci permette di trovare, come Google Map ci dice quale percorso fare, ora se noi riusciamo ad avere un applicativo che riconosce quando il sistema evolve o comunque va in transizione verso il caos, riusciamo a evitare l'ingorgo se succede un incidente, per esempio, quando succede un incidente in un punto quello è l'elemento caotico che fa passare il sistema dal sistema lineare a un sistema caotico, se riusciamo a capire queste connessioni potremo fare un applicativo, per esempio, per mantenere la fluidità del traffico senza il bisogno di… nonostante che il sistema sia diventato caotico. spero di avervi fatto capire cosa stiamo cercando di fare e grazie per il ciclo. Un caos come la biennale, però all'interno di quello direi che è dal caos che si creano le cose migliori e quindi non possiamo che parlare di arte e di arte in strada, per la ricongiunce. Dove ti pare? Fatemi sentire importante, vado lì. Anche se non è importante, vai in strada. Allora, buongiorno, sono Alessandra Lanciotti, faccio parte come Eleonora Ariolfo della FNAS, della Federazione Nazionale dell'Arte in Strada, ma al contempo qui a Roma ho gestisco… no, non ho niente da presentare se non me stessa, mi spiace. Faccio parte di una compagnia di teatro di strada e circo contemporaneo, gestisco un piccolo teatro, insomma sono quella che si definisce un'operatrice culturale. Vorrei in realtà condividere con voi una riflessione sul perché l'arte in strada. Dunque la FNAS si occupa soprattutto di arti performative e di spettacolo dal vivo nello spazio pubblico, quindi adesso ci stiamo aprendo al dialogo anche alla street art e altre forme di arte nello spazio pubblico, però soprattutto nasce dalle arti performative e dallo spettacolo dal vivo. Dunque l'arte fa parte del sistema cultura, il sistema cultura è qualcosa che è funzionale, l'arte rivendica il fatto che non serve a niente ed è fondamentale che non serva a niente perché non ha una necessità di avere un risultato, ce l'ha a suo malgrado, ce l'ha nonostante se, però l'arte di per sé è esattamente come l'essere umano, non serve a niente ed è per questo che è fondamentale all'essere umano. La cultura ci fa crescere, l'arte ci fa essere e quindi il fatto che l'arte venga portata nello spazio pubblico e non siano le persone a dover andare a cercare l'arte in teatro, ai concerti, nei musei è importantissimo perché non tutti hanno la possibilità, la voglia, la formazione di andare, ma vogliono stare. Quindi vi faccio un piccolo esempio anche di quello che a dicembre abbiamo vinto il bando delle periferie del comune di Roma e abbiamo portato un tendone da circo al Laurentino ai Ponti, non so se qualcuno di voi conosce la zona, che è definita zona degradata e la gente era molto incuriosita, sono venuti loro da noi, hanno visto gli spettacoli, era tutto molto accessibile, erano tutti contenti perché era anche bello il tendone, in un prato dove di solito non c'è niente c'era una cosa bella che era andata da loro e modificava la loro percezione dello spazio dove vivevano, non solo c'era questa offerta che era per loro, ma la gratificazione veniva poi di riflesso da tante altre parti, un ragazzetto mi ha detto oh zì ma lo sai che la gente c'è via da Roma a vedere sta roba? Perché a Laurentino non stiamo a Roma, io dico stiamo perché io abito da quelle parti e quindi l'orgoglio di avere raccolto l'interesse anche di altre zone di Roma che di solito snobbano e poi un'ultima cosa, poi vi lascio così sarò velocissima, noi percepiamo di solito il fatto che la cultura, l'arte non arriva nelle periferie degradate o comunque che noi in qualche modo in modo snobbistico diciamo beh sì però certo a Laurentino, l'Orentino è attaccata all'Euro, l'Euro è la Roma Nord di Roma Sud, per chi non è romano questa cosa non vuol dire niente ma nel senso che è un quartiere super chic in un mondo che di solito solitamente non viene percepito come tale, all'Euro non c'è niente, l'Euro è morto e la gente ci veniva non solo da Roma ma pure dall'Euro a vedere i nostri spettacoli perché il problema non è soltanto quanto è ricco un quartiere a livello economico, il problema è quanto è ricco un quartiere a livello relazionale, quindi arte nello spazio pubblico sì perché non serve a niente ma serve a tutto e innesca dei processi, suo malgrado, senza sapere quali, poi è anche veicolo di cultura, noi facciamo spettacoli per esempio che tramite il linguaggio circense parlano della violenza di genere, parlano delle migrazioni, ma è come dire una seconda fase di questa cosa, di per sé una cosa bella, una cosa che ti nutre e lo fa a prescindere e la responsabilità enorme degli artisti in questo senso è che tu non sai che cosa inneschi nell'altra persona, da questo punto di vista la fisica e la matematica ci insegnano con la meccanica quantistica che è stato scoperto che due elettroni che entrano in relazione fra di loro anche quando poi vengono separati continuano a agire come se continuassero ad essere vicini e questa cosa secondo me è molto bella perché anche gli esseri umani funzionano così, quando io incontro una persona non sai che cosa ti lascio e quando tu andrai in Francia continuerai a avere tuo malgrado senza saperlo qualcosa di me dentro e in questo l'arte è importantissima perché è il senso di essere umani, non siamo esseri umani perché costruiamo stazioni spaziali su Marte, quello ci rende dei castori super sofisticati, noi siamo umani perché facciamo arte, grazie. Vabbè visto che abbiamo parlato di Roma insomma se vogliamo ricordare il grande Petroselli e il grande Nicolino diceva portare il centro in periferia e la periferia in centro, cosa che un po' la nostra artista su cui ha lavorato? Allora io mi aiuto con delle immagini che non commenterò vanno un po' da sé perché seguendo quello che dice lei che mi piace molto io sono molto propensa al fatto che forse la funzione del fare nello spazio pubblico è quello di consentire alle persone di imparare a fare da sé, quindi in qualche modo di dare degli elementi di schiocco, di inizio, di abbio perché poi il ritorno sia che si impara attraverso di questo a discernere, a sapersi districare nei propri codici, a riconoscere quelli degli altri, quindi questa a me sembra una questione fondamentale. Manuela ha giustamente nominato Renato Nicolini, alcuni di noi ne sono ben consapevoli, chi non lo è invito fortemente a cercare Renato Nicolini e documentarsi a gogo, cito lui perché io mi sento esattamente figlia di quel tempo che ho vissuto da spettatrice e cito lui per il fatto che da spettatrice io ho percepito una città che non conoscevo, che mi metteva paura e che improvvisamente è diventata per me amica, confidente e con cui alla fine ho assunto un rapporto definitivo. Se oggi ho fatto quello che è successo vuol dire che è da lì che io vengo e tutto quello che ho visto da lì e quindi essendo successo mi ha suggerito che poteva succedere di nuovo, che c'è un link sulla rete, stiamo accedendo alla rete, nel momento in cui ho avuto la fortuna di avere a che fare con questa possibilità di intervenire sullo spazio pubblico, che è una responsabilità enorme che io non vivo dal punto di vista della mia performance, della mia autodeterminazione, ma cercando di fare la cosa giusta per quello spazio, peraltro io, come dire, Michelangelo, Raffaello li ho portati fuori, per cui un pochino si può fare questa cosa qua, cioè avvalersi di quello che tanti nei secoli hanno fatto per dargli una dimensione differente e farli appartenere allo spazio, questo è quello che mi ha riguardato e ancora mi riguarda oggi, non è tanto quello di produrre, io per esempio sono piuttosto anarchica in questo senso, abbiamo bisogno di progettualità, di contenuti assolutamente sì, non di un chiasso progettuale che magari dentro c'è un vuoto abissale perché è confezionato bene per un buon bando, ma magari non c'ha anima, non sa che cosa esprimere, per cui attenzione anche a non confezionare tutto, io sono piuttosto come dire, ecco vai tranquilli, cinque secondi vanno per conto loro, quindi vi faccio solo vedere delle immagini perché preferisco che quello che può venire fuori da questa esperienza lo percepiate da voi, questo è il rapporto che io ho assunto con Roma, avendo avuto occasioni, avendone create, quindi è un connubio delle due cose in mezzo a mille difficoltà, ma anche in mezzo a mille opportunità che sono state più grandi di ora, quando lo spazio pubblico ho ancora vissuto, come il luogo che in qualche modo apriva, era il varco reale all'accesso alla cultura, perché si passa attraverso lo spazio pubblico per accedere ai luoghi dove si potrebbe dover decidere se entrare o meno, per esempio, ma ciò non vuol dire che se io o non ho la possibilità o non ho il tempo o non ho la voglia, non è detto che lo spazio la possa far venire questa voglia, perché quello che io ho imparato quando avevo 16-17 anni che casualmente, accidentalmente, inciampavo in cose completamente incomprensibili per me in quel momento, ma che capivo che mi riguardavano e quella cifra interiore, io me la sono portata avanti nel tempo, a che servono le politiche culturali? A questo non sono atti irrinunciabili, non sono fasi che noi possiamo procrastinare e dirò di più, non sono fasi che non possiamo neanche confezionare e storicizzare perché diventino volumi per qualcun altro, è un'esperienza diretta, carnale, molto fisica che dobbiamo consentirci, consentire e richiedere fortemente che venga percorsa, perché altrimenti noi saremo dei buoni produttori di materiale letterario, ma non avremo bucato l'anima delle persone e oggi mi dispiace, c'è bisogno di questo, altrimenti continueremo a confezionare tante cose per patrimoni futuri, per possibilità altrui, ma magari non glieli sappiamo raccontare. E allora il racconto che passa attraverso la frontalità dell'esperienza, io faccio delle cose che hanno a che fare col digitale, nel senso che passo per quel linguaggio, ma mi serve per riprodurre e dare la possibilità di fare esperienze frontali, esserci nei luoghi, non mi interessa mettere occhialoni, non mi interessa passare per delle tecnologie che mediano e che mi dicono che sostanzialmente vedere da uno schermo o da un altro media è uguale, non è uguale, essere su un luogo significa farne esperienza, significa stare con tutti i sentimenti interiori ed esteriori, con il corpo, con tutti i sensi in una situazione in cui ci si può fare un'idea personale di quello che sta accadendo. Allora siccome io sono questo senso molto propensa al fatto che, ed è per questo che non mi so definire, non sento da appartenere a niente, non mi sento un artista, non mi sento niente di tutto questo anche se provengo dalla urbanistica e dell'architettura, quindi su quello mi sono formata e il senso dello spazio, ogni volta che faccio una cosa mi dico ma perché dovrebbe interessare sta cosa che sto facendo, quindi mi pongo prima di tutto delle questioni e delle volte il miglior progetto è non fare niente e bisogna avere il coraggio di dirsi e di dire anche questo, per cui siamo tramite e testimoni di qualche cosa che ci passa addosso, in alcuni non produce nulla, in altri produce un'azione, ma tutti siamo tramite dell'esperienza nostra e di qualcun altro. Dovremmo solo agire nell'ambito del quando si sta sullo spazio pubblico che quello che si sta facendo non è la propria traccia nello spazio, è quello che lo spazio può tollerare, perché ci sono molte delle nostre manifestazioni che non interessano proprio a nessuno e quindi non dobbiamo semplicemente dire ho un'occasione e me la sparo come mi pare e confesso che penso che molte volte quella che chiamiamo street art faccia questo, io domandai una volta a un curatore cosa chiede l'artista a livello prestazionale dal luogo in cui opererà, chiede che sia più visibile possibile, allora attenzione a questa dimensione autobiografica e anche un po' narcisista che è lo spazio pubblico a cui non bisognerebbe prestare lo spazio pubblico, perché è un'azione differente, quindi nessuno di noi ha ragioni, ha torti e tutti operiamo nella massima buona fede, ma poniamoci molte domande perché lo spazio pubblico è lo spazio di tutti quanti, che ci piaccia o meno, anzi ci piace molto, per cui attenzione e cautela tutto quello che facciamo. Grazie. Beh, a questo punto finiamo con il Comune di Roma, 5 minuti. Ah, sì. Finiamo, cioè finiamo con questo spaccato romano. Io mi presento, mi chiamo Federico Stolfi, faccio parte dell'assessorato della cultura, ho il piacere di collaborare con l'assessore Michele Gotor, di cui vi porto i saluti. Il mio intervento si incentrerà più che altro su quello che stiamo facendo con l'amministrazione dei quartieri, sulle politiche culturali, per restituirvi anche un po' una cornice di quello che succederà a Roma nei prossimi anni nel nostro ambito. Chi è intervenuto prima di me diceva che con Nicolini Roma è diventata una città più confidente. Noi ci consideriamo un po' nel solco del lavoro che hanno fatto i due grandi assessori, Nicolini e Gianni Borgna, prima di noi, perché in modi diversi hanno cercato di rispondere alle esigenze della città dotandola di una rete di infrastrutture culturali che prima mancava. Una rete di infrastrutture culturali che naturalmente stiamo cercando di ampliare e di portare laddove serve di più e da questo punto di vista il PNRR, ma anche i diversi appuntamenti che Roma avrà nei prossimi anni, il giubileo, se vogliono anche l'Expo 2030, saranno un'opportunità per dotare di una nuova generazione di servizi pubblici la città, come diceva Antonella Agnolo. Io credo sia abbastanza importante restituire il fatto che attraverso queste risorse comunitarie nate da un evento terribile, quello quale è stata la pandemia, come città stiamo mettendo in campo un piano di investimenti di 50 milioni di Euro per la rigenerazione e l'ampliamento del sistema bibliotecario cittadino. Si diceva che le città, per essere tali e non essere non luoghi, devono avere dei luoghi di prossimità dove le persone possono passare il proprio tempo libero. Il sistema delle biblioteche di Roma, da questo punto di vista, è un'eccellenza. Poi è una struttura pubblica che funziona bene, che ha un'ampia rete, che potrebbe essere meglio finanziata e quindi garantire anche orari di apertura migliori, ma su questo ci lavoreremo perché insieme ai progetti di rigenerazione materiale come amministrazione abbiamo ben presente che l'aspetto gestionale e di costruzione di un patrimonio immateriale intorno ai nuovi servizi che noi costruiamo è fondamentale per far ridecollare. Comunque, vi dicevo, questo piano di rigenerazione e ampliamento del sistema bibliotecario cuba circa 50 milioni di Euro e prevederà 30 interventi, tutti in aree decentrate della città, 21 su biblioteche già esistenti che saranno riqualificate, riefficientate sul piano energetico, eccetera, eccetera, e quindi verranno rimesse a nuovo e altri 9 che essenzialmente restituiranno ai cittadini degli spazi pubblici abbandonati anche di grandi dimensioni, penso ad esempio alla piazza coperta sopra la fermata della metropolitana di Arco di Travertino in Municipio VII, ma anche alla Fornaceveschi a Valle Aurelia. Insomma, si tratta di 9-10 con l'ex manicomio di Santa Maria della Pietà dove verrà costruita un'altra biblioteca con un altro piano urbano integrato, 10 luoghi della città che verranno tolti dall'abbandono e restituiti ai cittadini per essere dei poli civici, quindi dei luoghi dove ci siano sì dei servizi culturali e bibliotecari, ma soprattutto dove le persone possano incontrarsi, sviluppare un immaginario comune, vivere il tempo libero al di fuori delle mura di casa e quindi vivere anche la città, lo spazio pubblico. Un altro piano importante di interventi riguarderà il patrimonio culturale nella sua accezione un po' più tradizionale, quindi musei, aree archeologiche, eccetera, c'è un grande progetto che si chiama Caput Mundi, vale mezzo miliardo di Euro, credo che sia il più grande investimento sui beni culturali di Roma dallo scorso giubileo, quello del 2000, ed è un grande piano di rigenerazione del patrimonio culturale che è in qualche modo partecipato da tutte le principali istituzioni culturali della città, quindi le sovrintendenze di Stato e la sovrintendenza Capitolina, che è il Dipartimento di Roma che si occupa dei beni culturali. Roma Capitale, diciamo da sola, gestirà circa 230 milioni di Euro, che non sono pochi, per riqualificare grandi spazi urbani come le mura aureliane, il Museo della Civiltà Romana, ma anche alcuni padiglioni del luogo in cui ci troviamo, l'ex mattatoio, che l'amministrazione Gualtieri sta in qualche modo indirizzando verso un progetto di città delle arti, portando avanti anche il lavoro fatto da chi è venuto prima di noi, un lavoro che spesso si è interrotto. Insomma, il mattatoio è uno dei luoghi dove si risperimenterà una delle forme di rigenerazione urbana più importanti dei prossimi anni, anche l'Università di Roma 3 prevede di fare degli investimenti qua e si è trovato un accordo con il Comune per una concessione trentennale di alcuni spazi ulteriori, c'è anche l'Accademia delle Belle Arti che farà degli investimenti, insomma il mattatoio noi speriamo e ci auguriamo e lavoriamo in questa direzione affinché diventi una vera e propria città delle arti. Poi con Caputmundi sono previsti anche altri interventi per aprire al pubblico alcuni spazi che oggi non sono aperti, penso al Teatro di Marcello, è nel centro storico, noi spesso quando parliamo di politiche culturali abbiamo una forte attenzione e lo si può vedere anche dai bandi che facciamo per le attività immateriali verso le aree decentrate della città, a me non piace la parola periferia perché ormai l'80% dei Romani oltre vive fuori dal centro storico dove c'è una quantità residua di abituanti che è limitata e quindi la vera Roma è al di fuori dell'immaginario pittorico e iconografico che se ne fa spesso nel cinema e in altri media, salvo qualche rara eccezione in cui si rappresenta anche poi la vita al di fuori delle mura. Comunque tornando sul punto di Caputmundi ci sono molti interventi che riguardano la parte archeologica centrale della città, ma anche poi beni culturali diffusi in varie aree anche meno centrali. Questo per dirvi che Roma sulla sfida delle politiche culturali si gioca molto nei prossimi anni perché il patrimonio che noi abbiamo l'onere e l'onore di in qualche modo amministrare è un patrimonio di tutti. Come questo patrimonio poi si articola e si diffonde nella città è in qualche modo un compito dell'amministrazione locale darvi un indirizzo. Quello che noi crediamo è che oggi si debba un po' rispondere a quell'esigenza di servizi pubblici che oggi mancano nelle aree periferiche, non solo attraverso la street art, non solo attraverso gli eventi effimeri, ma cercando in qualche modo di mettere a terra dei servizi e degli spazi fruibili durante il tempo libero, quindi al di fuori gli orari di lavoro e di studio per le persone. Non è una sfida semplice, stiamo provando a fare quello che possiamo e ci auguriamo di restituire ai Romani una città migliore di come l'abbiamo trovata, consapevoli che il nostro lavoro si inserisce in un percorso avviato da persone molto autorevoli e molto in gamma che sono venute prima di noi e che continueranno poi quelli che verranno anche dopo. Grazie mille, poi bella la notizia di questa idea del mattatoio che diventa la città dove siamo ora, quindi diciamo che potrebbe essere questo il nucleo di partenza, ovvero parlare di cultura nello spazio che diventerà una cittadella della cultura. Continuiamo invece con Alma Gentinetta, che ci faccio qui? Allora io faccio parte del gruppo rimediare e qui ci faccio parte come nel gruppo rimediare, io sono una psicologa, una psicoterapeuta, gruppo analista e quindi un'altra figura, un'altra competenza, un altro modo, un altro sguardo e parto da qualcosa che ha detto oggi Erika Capasso, quando lei parlava della differenza tra il lenire e il trasformare. Viviamo in una società, in un mondo che ha delle ferite, forse mi ha colpito perché lei ne parlava da Bologna. Allora io penso che ci sia un tempo necessario per lenire in attesa di un tempo per trasformare, ma il lenire non è sufficiente, però a volte dobbiamo proprio partire di lì. Lenire che cosa? Lenire quello che c'è nell'immediato, ma se non lo facciamo con uno sguardo prospettico, rischia di mettere come diciamo anche noi, no? Dico è qui, aiuta il mio lavoro. Sì, mettiamo una pezza, però poi domani si fa un buco da un'altra parte. Allora io penso che la fatica del nostro tempo sia quello di provare ad agire tutti contro la frammentazione, frammentazione di tempi, frammentazione di spazi e quindi la fatica più grossa, ma il cervello e delle connessioni, cioè di mettere costantemente in connessione ciò che al momento è immediato, ma ciò che magari poi non lo sarà più fra un po'. È una fatica di equilibri precari sempre, del resto mi sa che la complessità sia proprio, non sono sbaglio, camminare sull'orlo del caos. Auguri e che non ci prenda mai lo svenimento. Grazie della giornata. Grazie, scusate ma come avete visto la Biennale, noi siamo stati chiuditi dentro, ma nel frattempo succede di tutto e succederà di tutto qualcosa qui tra pochissimo, quindi insomma stiamo alla fine. workshop sulla Palestina, allora qui workshop sulla Palestina, chi vuole c'è un interessantissimo workshop su partecipativo, che è interessato alla partecipazione, è fatto direttamente con il laboratorio della Sorbonna di Moreno, proprio qui di fronte, che inizia alle due e mezza, quindi ora capite perché rompo le scatole sui tempi, perché è bello che comunque anche se non si esaurisce tutto quello che si vuole dire, che si diano degli input perché un domani il cervello continua a lavorare, si creano delle connessioni anche tra di noi e comunque si apre un discorso. Quindi chiedo ancora scusa se sono stata proprio cattivissima, ma insomma non vi farò le conclusioni, solo due parole e un appuntamento che vi segnalo. La parola è che a me è piaciuto molto quello che è venuto fuori oggi, potremmo parlare nel lungamento, ho visto molte tracce comuni, ci sono due direzioni sicuramente che noi abbiamo capito, noi dobbiamo fare una direzione in esterno per capire come la politica può recepire tutto quello che nel nostro paese sta avvenendo, come quello che sta succedendo, perché abbiamo esperienze, pratiche, percorse in tutto il paese, importanti, significativi, ma non sono strutturali, riconosciute, valorizzate, messe a sistema e diffuse. Quindi noi abbiamo bisogno di, sia la tutela del lavoro, sia la normalizzazione, sia leggi, tutto quello che vogliamo, abbiamo bisogno di politiche che siano altamente fatte e su questo mi connetto ovviamente, oggi pomeriggio noi presenteremo, perché abbiamo fatto un lavoro, noi quando parlo di noi parlo del gruppo rimediare, ma parlo anche di 150 organizzazioni e persone responsabili di Italia, che sono psicologi, neurologi, artisti, urbanisti, economisti, eccetera, che hanno lavorato insieme in tutto questo anno, anno e mezzo, per mettere a fuoco le visioni necessarie, i percorsi, gli strumenti e come dialogare con la politica, perché poi vorremmo incontrare anche sui temi, su tutto quello che è venuto fuori qui, i politici, sia locali, sia nazionali, perché in questa fase, come diceva nel Comune di Roma, noi abbiamo bisogno di politiche molto attente, molto precise, che badino all'infrastruttura fisica, ma che badino attentamente alle infrastrutture sociali, queste cose devono andare insieme, molto attentamente e attentamente su come sarà la spesa e attentamente agli strumenti che stiamo usando, lo sapete benissimo, perché ovviamente il bandificio, il progettificio, il fatto che non ci sia il tempo ed altro per spendere bene le spese rischia di portarci male, quindi è molto attento, noi stiamo chiedendo ai Comuni, agli enti pubblici e tutti attenzione agli strumenti, attenzione ai tempi, attenzione a far sì che tutto quello che sta succedendo nel paese non sia solo temporaneo, abbia un percorso, perché c'è una cosa che sta avvenendo qui, molte esperienze, ma che hanno il limite della temporaneità, della non diffusione, della dispersività, del fatto che non c'è una presenza nord e sud precisa o nel paese intero e che anche gli strumenti che stanno usando sono rischiosi, quindi la politica in questa fase, c'è una discussione, io so cosa sta facendo a Roma, sto facendo un lavoro molto attento, molto preciso come altro, ma noi dobbiamo interloquire e ci vuole molto più lavoro fra la politica, il terzo settore, l'organizzazione e le comunità, se noi non ne usciamo. Grazie. Grazie. Grazie.